Festa in Catalogna per il Partito Socialista che si è assicurato la vittoria alle ultime elezioni. Questo risultato è per molti un simbolo dell'approvazione del popolo all'approccio del leader socialista Pedro Sanchez e alla sua proposta di indulto per le persone coinvolte nel referendum sull'indipendenza tenutosi nel 2017, tra cui il leader di Junts, Carles Puigdemont. Nonostante questa vittoria, il potenziale governo del candidato socialista Salvatore Lilla dovrà cercare supporto da partiti di sinistra. L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, che è arrivato il secondo, ha chiesto a Ila di far spazio a un governo indipendente di minoranza, in cambio del suo supporto al governo di Madrid. Intanto la possibilità di una ripetizione delle elezioni è ancora incerta. dipenderà dal conteggio dei voti dei residenti all'estero. Per quanto improbabile, questo potrebbe mettere a rischio la posizione di là all'interno del blocco di sinistra. Le negociazioni per il futuro governo di Catalunya si seguono con gran expectazione qui, in Madrid, in il Congresso dei diputati, per le possibili conseguenze che potrebbero per la gobernabilità di España e il futuro del governo di Pedro Sánchez. Solo hai una cosa praticamente segura. Habrà che esperare al desenlace delle elezioni europee. In Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.